Siamo in onda? Siamo in onda? Siamo in onda? Sì. Buongiorno bambini! Io sono il vostro pappagallo Lallo. Ciao! E benvenuti al telegiornale dei bambini. Oggi vi parleremo di una notizia molto 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 importante. Pensate, il re dei dinosauri è stato trovato. Davvero, eh? Si chiama T-Rex e viveva milioni di anni fa. Ma non preoccupatevi. Non esiste più! Era uno scherzo. Chi è? Chi è il telefono? Ehm... Sì? Come dici? Mh? Sì? Ma veramente? Eh... Ora lo dico a tutti, allora. Va bene. Bah, sorprendente. Bambini, oggi abbiamo una notizia incredibile. Un dinosauro è stato trovato vivo e vegeto. Si chiama Dino e vive in una foresta lontana, lontana. E adesso, direttamente dalla foresta lontana, lontana, ecco Dino in persona. Ci colleghiamo con Dino. Dino? Puoi farti vedere, per favore? E dimostrare che esisti veramente? Eccolo. Ecco il servizio. Eccomi. Sono qui, bambini. Ma tu non sei il dinosauro Dino. Sei una scimmia. Io sono Evarista, la scimmia. Equilibrista. Noi stavamo aspettando il dinosauro. Tu sei una scimmia. Io sono la scimmia Evarista. Un giorno, mentre mi arrampicavo sugli alberi, vidi qualcosa di incredibile, bambini. Un dinosauro vivo. Rimassi senza parole e non sapevo come reagire. Ah! Così corsi a raccontare la mia scoperta a tutte le mie amiche scimmie. Ma nessuno volle credermi. Nessuno. Tutti pensavano che stessi inventando storie. Ma io ero determinato a dimostrare che quello che avevo visto era vero. Così decisi di tornare nel luogo dove avevo visto il dinosauro. Ho aspettato, ho aspettato, ho aspettato tanto. E ho aspettato tanto. Ma tanto, eh? Dopo un po', il dinosauro apparve di nuovo e riuscì a fargli una foto con il mio telefonino. Finalmente ho la prova che il dinosauro esiste davvero. E la notizia si è diffusa talmente rapidamente e tutti vennero a vedere la foto che avevo scattato il dinosauro. Da quel giorno sono diventata la scimmia più famosa di tutta la giungla per aver scoperto il dinosauro. Che storia strana. Una scimmia. Ma è una cosa strepitosa, bambini. E scimmia avarista, puoi farci vedere la foto del dinosauro, per favore? Così ci crediamo anche noi. Certamente. Adesso la prendo, aspettate. Ve la faccio vedere subito. Un attimo. Dov'era? Era qui. L'avevo messa sotto i piedi, dietro le orecchie. Un attimo. Eccola, eccola. State tranquilli. C'è veramente. Eccola. Ma si vede soltanto un occhio. Non mi sembra proprio un dinosauro. Io vedo soltanto un occhio, bambini. Beh, queste scimmie. Sei una puzzona, scimmietta. Purtroppo allora, bambini, non abbiamo nessuna evidenza che i dinosauri esistono ancora. Peccato. Ma se voi bambini ne vedete uno, allora scrivetemi e mandatemi il disegno, che poi lo mostreremo a tutti e così potremo dimostrare che i dinosauri esistono ancora. Esistono veramente. E adesso, un altro servizio. Passiamo alla nostra corrispondente dallo spazio, la nostra amica aliena Zorga. Ciao Zorga! Come fai? Ciao Lallo! Ciao bambini! Sono nella mia astronave e sto andando al cinema degli alieni. Sì, sì, sul pianeta Marshmallow. Quindi, ho poco tempo da dedicarvi, però ho per voi una bella sorpresa. Sì, sì, da un paio di giorni ho un nuovo amichetto, un animaletto dolce e simpatico che vive solo sul pianeta Marshmallow. si tratta di un sonnacchione orecchiuto a cui ancora non ho dato un nome. Forse lo chiamerò senza nome. Chissà. Ma... Un sonnacchione orecchiuto. Un animaletto alieno. Senti un po', Zorga, ci puoi dire com'è fatto un sonnacchione orecchiuto? Chissà perché si chiama così. Ce lo puoi dire? Certo. Bambini, vi faccio vedere. Ecco il mio sonnacchione orecchiuto. Vi piace? È bello, eh? Senti, Zorga, per favore. Vedo che il sonnacchione sta dormendo. Puoi svegliarlo per noi? Dai, così lo vediamo meglio. È impossibile, caro Lallo. I sonnacchioni dormono sempre. Per questo si chiamano così. Ora devo andare. Sono arrivata sul pianeta Mach-Mellov. Arrivederci, bambini. Ciao. Ringraziamo la nostra amica Zorga per il collegamento dallo spazio. Salutaci tutti gli amici alieni del pianeta Mach-Mellov. E ora passiamo alle previsioni del tempo. Sì, sì. A cura del professor Dino Draghetto. Dino Draghetto, ci puoi dire come sarà il tempo questa settimana? Dino? Ehi, chiamate Dino, per favore. Ma dove sei? Dino? Dino? Ehi, eccomi qua. Sono qui, bambini. Io sono Dino Draghetto. Ed oggi vi parlerò del tempo. Oggi il sole è come un sorriso che ci scalda il cuore. Non ci sono nuvole in cielo. È una giornata perfetta per giocare a nascondino. Ehi, domani ci saranno nuvole bianche come panna montata nel cielo. Non preoccupatevi, potete assaggiarla mentre giocate all'aperto. Ehi, ehi, invece dopo domani ci saranno nuvole grigie come un elefante. Potrebbe piovere un po', ma non preoccupatevi. Potrete ancora giocare all'aperto con un ombrello colorato. Ed ora, per finire, vi passo l'amico Lallo. Cari bambini, vi ringraziamo per averci seguiti. Vi aspettiamo sempre su Tè del Lallo per seguire la prossima puntata. Arrivederci bimbi. Ciao. Ciao. Ciao.